A contendersi la fascia tricolore con Giovanni De Simone, dall'altro lato della barricata, con la lista all'alternativa Un Comune per Tutti, c'è Antonella Scannapieco, la prima candidata a sindaco donna per Vetri sul mare, prima degli eletti nella scorsa tornata elettorale nella lista che sosteneva il sindaco ben in casa, è stata anche assessore alle politiche sociali, prima di uscire dalla maggioranza nel 2017 per divergenze politiche ed amministrative. Saranno inaugurate anche altre sedi sulle altre frazioni e poi ci sarà un programma con i vari incontri dove parleremo con i cittadini e faremo capire, faremo comprendere il nostro progetto, il nostro progetto di cambiamento in un modo diverso di amministrare, un modo che sia partecipativo, trasparente ed efficiente. La politica deve diventare e deve ritornare ad essere quella partecipativa tra i cittadini, con i cittadini, attraverso l'ascolto. La politica non può essere più considerata merce di scambio dove il diritto viene scambiato, diventa favore, diventa piacere. La politica la scegliamo noi, la politica la facciamo noi con le nostre idee, con le nostre soluzioni da dare attraverso esigenze concrete dei cittadini. A sostegno della candidatura a sindaco di Antonella Scannapico, una schiera di giovani professionisti e rappresentanti delle attività economiche, Giovanni Bilotti, Maurizio Celenta, Giovanni Filosa, Ersilia Frusciante, Giuseppe Masullo, Roberta Pecoraro, Antonietta Remondi, Claudio Santorello, Serena Santorello, Emilia Senatore, Alessio Sedetello e Filippo Tortora.